Bella a tutti ragazzi, sono Luca, siamo su Blur per continuare l'aggressione brutale Ok, ora siamo in una gara, scusate che... Ok, nella scorsa puntata avevo spostato il microfono e adesso mi dà fastidio Siamo in una gara, stavolta a Brighton, con la classe B, ancora una volta Sempre la classe B devo usare La mia preferita per ora è la Viper, in questa classe Cioè no, la mia preferita è la Scirocco, però anche la Viper mi piace Non ho ancora usato la M3 ma non so, non c'ho voglia di usarla ragazzi La userò dai, prima o poi la userò, per ora non ho voglia di usarla, oh, permettetemi Vabbè qui dobbiamo arrivare primi, non ci vuole niente, 5 minuti l'ho già finita Adesso porteranno gli scleri più assurdi, ma solide, tutte le volte che dico così succede casini ovunque Cos'è che era quella, la Focus? Va davanti a me Guardate che bella che è l'auto di Natalia, porca vacca Ehi bastardo, che calmino No, stiga, maia, maia Cazzo, non riesco a prendere un Primo, vabbè lì Dai, dai, dai Ciao Merda no, merda no No, ferma lì Bravo Presa Che coglione No, se prendo qualcuno, mamma mia, che bestia Facciamo, forse, per cancellare Minchia, no, questa è la mina, proprio lì dove andarla a mettere Aspettatela che è completo questo obiettivo qua Aspettatela che è completo questo obiettivo qua Spero si avvicina a qualcuno, vedete Sì, ma non si avvicina a nessuno Ciao, proviamoci Che merda che è, il nostro invertito è una canzone Non faccio raggiungere l'indicento allora Io quando piano, calma, sciallo Ah, c'è il semaforo rosso, vabbè Aspetta che è fermo Ah State, bisogna andare a procedenza Ok, perfetto Ok, via Sì Troia Che culo, che culo, che culo Che culo Me la son presa comodo, dai Minchia, sette, sette stelle, ragazzi Tanta roba Continua Ci sta, ci sta Colpisci più auto con cinque urti Cosa vuol dire? Ah, ok Prendo gli urti E poi quando c'è proprio la mucchiata di macchine Ci sta Anche questo circuito qua non l'ho mai visto Prossima volta facciamo anche questo circuito Quindi Attenzione Poi colpisci dieci auto con la scossa Ah, la scossa, sì, ok Ok, vabbè Al limite se non riesco proprio Cioè io Ripeto Quando registro Cerco solo di vincere le gare Poi gli obiettivi Me li faccio io da solo E Quando ho completato tutti gli obiettivi Quando ho completato tutti gli obiettivi Io registro Così vedete il video introduttivo E la sfida finale Contro il boss In questo caso Natalia O Natalia Natalia Ben sono la stessa roba Niente ragazzi Il video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Commentate con il dividete Iscrivetevi Seguite i video Le playlist E il canale Ma soprattutto divertitevi Bella a tutti ragazzi Al prossimo video di Blur Bella raga Ciao 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 Grazie.